Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale Eccoci qui di nuovo con Forza Horizon 3 Allora siamo oggi su una vecchia lancia Ma una lancia con i controcazzi Perché siamo su un piccolo bolle Dai che qualcuno di noi già l'ha riconosciuta Su via Colorazione originale Guardatela Quanto è figa Occhio Aspettate quanto è veloce tra l'altro Mamma mia Vabbè l'ho modificata Era prevedibile che modificassi anche questa Lancia E fermi tutto Fermi frenata Vediamo anche la frenata Va bene la frenata Eh quello è andato lungo Quello è andato lungo Comunque vi faccio vedere la sigla completa Perché è del 1968 Una lancia Fulvia Coupé Rally 1.6 HF L'abbiamo portata L'abbiamo portata A livello S1 E al momento Stiamo andando a cercare Un altro gioiello Dimenticato Perché Occhio Abbiamo altre zone Da esplorare Gara carovano Niente Gara carovano Onestamente Poi andiamo a vedere anche queste Cose che sono qui Dov'è Ah no Più avanti Lista dei desideri Progetto Lista dei desideri Progetto Crea e sfogli Aspetta vediamo cos'è Sfida Sfida Lista Raggiungi la destinazione Su BMW M3 97 In meno di due minuti Ah ok Oppure la facciamo noi Però No Al momento Scusate Ah questa è un'altra La lista di qualcuno Che ci può stare però Poi magari quando Abbiamo un po' più di tempo Adesso Prima di tutto Dobbiamo andare a trovare Questo nuovo gioiello Dimenticato Che si trova qui Avanti Poi dobbiamo eventualmente Provare questa Lancia Aia Scusa Stavo provando a frenare Ma non c'è stato niente Da fare Posso Guardi Io parcheggio Un attimino qui Così prendiamo Il nostro bel Drone E ci andiamo a cercare Questo Gioiello Dimenticato Magari ci ribecchiamo Quando l'ho trovato Allora Non è stato Facilissimo Trovarlo Perché era Imboscato Benissimo Infatti noi adesso Proviamo a passare Qui in mezzo Alla boscaglia Se riusciamo A non morire O a non lasciare O a non lasciare Pezzi di auto Su alberi Sarebbe il top Come vedete C'era solo questo Nell'arco Di Tutta la La zona Infatti ci ho messo Un po' A trovarlo Comunque Comunque Vediamo un pochino Poi dobbiamo andare A recuperare anche L'altro Piano piano Tempo Al tempo Un gioiello Alla volta E vabbè Qua Si va di finezza Con quella Poi spaccheremo Delle gengive Comunque Comunque A parte il gioiello Dimenticato Che adesso Ci metterà Presumo In A nuovo Qui c'è qualche Esibizione Che possiamo fare Qui c'è un'acrobazia Percorso sconosciuto Qui abbiamo No il duello Questo qui Un'altra esibizione Facciamoci questa esibizione Dai Così almeno proviamo Anche questa Nostra lancia Lancia Si si ci faccia sapere Quando la La giusta Che Oppala Eh al su Perché anche Piano È stato È stato Che è uno Spettacolo Poi va Anche a bomba Comunque Cioè Vabbè che l'abbiamo Modificata Un bel po' Però eravamo Oltre I 300 km Qua posso tagliare Per tagliare Si può tagliare Così ne usciamo vivi Siamo troppo Sportinggianti Per non ne uscirne Vivi Cazzo Inizione Senti Il sound La turbina La potenza La prepotenza Infiodata Infiodata Beh di frenata Forse ci dobbiamo Lavorare un po' Però Campionato Esibizione Che dite Campionato Esibizione O ci faccio Un esibizione O campionato Esibizione Dai Posso farlo Con questa Se non sbaglio Eh Si 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 Va bene La nostra Lanciafulvia Certo Non abbiamo Tutti sti Gran soldoni Eh Però Ma si Perché io Come fai A non Modificare Queste auto È un peccato Lasciarle Di Livello D O addirittura E questa Se non sbaglio Era livello D Quindi Andava Modificata E in modo Sproporzionale Attenzione C'è anche C'è anche Una mini Guardate La Anche La mini Prima o Poi Andremo A modificare La La 131 Ma non sto Vincendo facilmente Esperto No Proviamo Esperto Cioè Continuiamo un attimo Esperto Poi dipende Anche dall'auto Nel caso E' bellissima Guarda La Come partono Con Cattiveria Portacci Vostra Non male Che vinciamo Facilmente Cioè Vedere Tutte Queste Auto Di Classe S Con Sta Potenza Sotto Il Cofano Aia Eh Però Cazzo Girare Non è Un'opzione Scusi Bellissima Anche la Livrea Di Super Mario Guardali Come Sgomano Le Mini Sì Però Scusate Noi Non possiamo Farci fregare In questo Modo La 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 voglio Anch'io La Mini Poi Amarrata Amarrata Diciamo Prestazionalmente Sproporzionata Devo fare Ancora Due giri Siamo Settimi Sesti Occhiala 131 A Bart Qua come Pennelliamo Le curve Occhio Occhio Che qua Prima Avevo Pennellato Un Muretto Andiamo A prendere Anche la Lancia Stratos Perché Solo che Costava Una Madonna Questa L'ho L'ho comprata Perché Se non Sbaglio Tra uno Spostamento E L'altro Era uscito Qualcosa Non so No Ho migliorato Un festival Se non ricordo male Quindi mi faceva degli sconti su alcune auto E Era un'offerta Che non potevo rifiutare Allora Ho comprato questa Fuglia C'era anche la Stratos Ma lo stava Lo sproposito Quindi Ultimo giro C'è ancora un'auto Da Recuperare Magari se non lo facciamo in questo modo Perché se no Non la recupereremo mai Piano Che ha la curva Che ha la curva Edizione Ci hanno fregato Ci hanno fregato Scusate Meno male che non ho aumentato la difficoltà Questi già Stanno a fare il culo così Figurati Il fatto è che questo è anche un evento singolo Quindi O lo vinci O lo vinci Attenzione Con Cattiveria e scorrettezza Non lo so No Secondo posto Figlio di mula Ci ha fregato la strada Stratos Guarda là Eh vabbè Ci prendiamo il secondo posto Maledizione Quindi questo poi è da rifare Cazzo Sì siamo arrivati un po' lungo Un po' di scorrettezza L'abbiamo presa con l'ultima curva Ma Va bene Va bene Adesso dovremmo darmi Il doppio dei soldi Però che Sto cose Barbone Perché ci stiamo pian piano Riconnettendo Alla rete Attenzione Ehm Fatemi vedere un pochino Qui sulla mappa Esibizione No però ce l'ha data Credo basti arrivare Tra i primi Tre Certo se Arriviamo a primi Era un'altra cosa Però Campionato Possiamo fare Il percorso sconosciuto Cos'è Già che siamo qui Sfruttiamo La sta funglie No Scusa Eh i campi Sono fatti apposta Per essere arati Sprint Ma lo devo fare io L'evento No Esibizione Sempre con questa Ma si che ci sta tutta Ah e come detto Ragazzi io magari In alcuni episodi Cercherò di Dedicarmi ad un'auto Una determinata auto Se riusciamo Tanto comunque Le gare sono tantissime Quindi Magari durante i campionati Invece dove faccio 4-5 gare O anche 6 Andiamo a A cambiare Ora C'è da dire anche Che il problema attuale È quello dei soldi Perché con l'acquisto Della Ferrari F40 Abbiamo speso Tutto il nostro patrimonio All'inizio Per un bug Che c'era stato Ci aveva dato Tutti quei soldi Però noi Non li abbiamo Correttamente Non li abbiamo Sfruttati In realtà Abbiamo comprato Solo un'auto Sola E quindi poi Quando Hanno Rilasciato La patch Gli hanno Tolti Quei soldi Dato Erroneamente Con La ruota Dalla fortuna Eh Noi quando vinciamo Un sacco di soldi Alla ruota Dalla fortuna Per forza Deve essere un bug Perché Non è possibile Che Andiamo a vincere Tutta quella moneta Stati fatto Stai fatto che anche qui Ci stiamo Una bomba C'è Loro Dio Infatti che Quando le andiamo A potenziare Così tanto Ste macchine Non girano Per una sega Staccata Scusami Appoggio All'altra Fulvia Siamo quasi a metà gara E siamo terzi Non va bene Gira Mamma mia Un tir Noi la rotonda Che non è rotonda Ma comunque La facciamo così Accorci Occhio Occhio Questa è pericolossissima Questa curva Sta pennelliamola meglio Pennelliamola meglio Cazzo Lo pennellare qua Pensate che ci fregano Pure sto giro Quello ci ha seccato All'inizio Quando ha detto Stai vincendo facilmente Non è vero Quando mai Proprio dipende Dall'auto che abbiamo Però Attenzione Di nuovo Lotta con la lanciastratos Che sta prendendo In largo Queste le dobbiamo fare Con più Sportiveggianza Attenzione Sul rettilineo finale Grande così Vabbè ci siamo Svaffeggiati Un pochino Era Obbligato Dalla traiettoria Accumula Accumula Fanna Accumula Moneta Accumula Qualunque cosa Soprattutto moneta Perché dobbiamo fare Un po' di acquisti Onestamente Qualche supercar Non vi preoccupate Ragazzi Torneranno le supercar Solo che Non abbiamo i soldi Non è per sfiducia Dove siamo andati a finire Qui Dove c'è Un altro percorso Sconosciuto Allora Siamo arrivati ad un altro Evento Tra l'altro con un Audi R8 Perché avevo provato a fare Un evento Che avevo incontrato Per strada Solo che Mi ha fatto scegliere Questa supercar Ma era offroad Quindi era inguidabile Qui che auto Ah no aspetta Stanno caricando anche le altre Però dimmi Cazzo Se è offroad O no Qua Che auto possiamo usare Queste però Queste sono da modificare Prima di fare una cosa del genere Mentre di queste C'abbiamo il macinino Quello lì che fa cagare Ma questa ce l'abbiamo Sì Anche di classe S1 Ma l'ho modificata io No Assolutamente no Proviamo questo Va Io ho queste due A E S1 Vabbè meglio A Perché almeno ci mette Quelle di classe A Anche se questa era Forse un po' inguidabile Si l'avevamo provata Era inguidabile Facciamo questa Dai proviamo Anche un po' di offroad Perché vi dicevo Avevo fatto Ho provato A fare una gara Che mi aveva proposto E c'erano supercar Cioè la mia E gli altri erano Gipponi Quindi Non era proprio per La mia auto Ma va bene Vediamo qui come va Anche se siamo Appena di classe S1 Gli altri potrebbero Approfittarne Attenzione la partenza Però c'è l'aggressiva Vai un chino Scusi Cazzo Che fa Spinge Ah questo è proprio Non offroad Di più Aia Guarda che qua C'è una brutta fine Se mi saltate in testa Queste Guarda Guarda qua Che meggiadria Di curva Io seguo loro Perché Posso passare qua Capitana Attenzione Arriva dall'alto Dimmi che l'ha preso Il coso La Ope la Guarda Così che era Patti Sono tre giri Abbiamo finito il primo Secondo me Qui si può fare Bene Adesso ci secchiamo Da soli Onestamente Va abbastanza bene Il nostro Cipino Come non detto Abbiamo perso il controllo Un volo Appena detto Che andiamo bene Siamo rimangiati Tutto Bella Io ripasso sopra Perché è troppo Sportiveggiante Questo Questo relitto Quindi dobbiamo Approfittarne Questa volta L'abbiamo fatto anche Meglio di prima Io Dai Ultimo giro Ultimo giro Ce l'abbiamo Le calcagne Però Che cade morto Sti maledetti Occhia a casa Do cazzo vado Eh sapete qual è il fatto Che se non ho gli altri davanti Perché non guardo la minimappa Maledizione Scusa Avevo sbagliato strada E' andata a casa della signora Abbiamo pazienza Eh gli offroad Forse dovrebbero fare Qualcosa Che magari in alcuni giochi Abbiamo aggiunto Una specie di Tra virgolette Faro Che ti illumina la strada Però in lontananza Perché Cioè adesso In realtà c'è il simbolo Del checkpoint Però a volte Quando sei Troppo nella Nella zona cittadina Non è che si vede bene Così vabbè Abbastanza visibile Ma Che fa a provare Fare la mia stessa strada E batte N'affanculo Cioè fa la strada mia E poi frena Sto Testa di cazzo Mi fanno perdere pure la gara I mortacci Loro Dai dai Che finiva Vaffanculo C'ho perso la gara Perché quello Voleva fare il pullo Lassopra Ma non la sa fare La curva Vaffanculo va Puttana di una eva Maledetto Si deve schiantare All'istante In amicizia Sempre Sì però Perdere queste gare E cose L'avevamo fatto Proprio di prepotenza Eravamo andati Quello là Ci ha tagliato la strada Ci ha frenato davanti Maledetto Comunque a questo punto Io direi quasi Che ci possiamo salutare Qui con questo Episodio Di Forza Horizon 3 Aspettavo che arrivasse La chiamata del tipo Per andare a ritirare Il gioiello dimenticato Ma evidentemente Ci vuole un po' più di lavoro Per metterlo a nuovo Quindi dai Ci vediamo con il prossimo episodio Voi come sempre Fatemi sapere la vostra Se potete Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Condividete Seguitevi sulla pagina Facebook E sul secondo canale Ci vediamo al prossimo episodio Allora un saluto a tutti Da Queltaleale